Una super provincia che fonda insieme Brindisi, Lecce e Taranto. Ecco la strada veloce per far nascere veramente il grande Salento. Una strada in fondo alla quale però si intravede un altro ente, la circoscrizione regionale che risponde al nome di Regione Salento. L'idea in questi termini è nuova, ma la vera sorpresa è la fonte dalla quale viene. Luigino Sergio, sindaco di Martignano, presidente dell'Unione dei Comuni e la Grecia Salentina, ed esponente di punta del Partito Democratico in provincia di Lecce. Partito che, per la prospettiva della Regione Salento, non ha mai dimostrato grande calore, nonostante le singole posizioni favorevoli di esponenti anche autorevolissimi, come Giovanni Pellegrino e Gianni Florido. Ora, Luigino Sergio, che negli ultimi anni ha scritto volumi e studiato da vicino le questioni relative alla governance dei comuni, chiede un salto di qualità, dalle unioni di comuni alla fusione di province e la sua proposta. Ciò sarà possibile se i presidenti delle tre province lo vorranno, spiega il presidente della Grecia. Pur senza che vi sia allo Stato alcun obbligo giuridico di fusione continua, valido per tutte e tre le realtà provinciali, i tre presidenti dimostrino di credere realmente al Grande Salento, al quale in questi anni, dal 2000 al 2012, hanno lavorato, facendo nascere un'unica provincia. Questo dipende ora solo da voi e dai comuni interessati, specifica Sergio, che spiega la differenza tra il percorso giuridico della superprovincia e quello della nuova regione. La regione Salento, scrive l'esponente democratico, da più parti è vista come una valida proposta per il territorio. La sua nascita allo Stato appare però al momento difficile, non deriva solo dalla volontà dei territori, ma anche da procedure giuridiche complesse, dall'obbligo del varo di una legge costituzionale, dalla necessità di approvazione della proposta da parte della maggioranza e delle popolazioni interessate attraverso referendum. La superprovincia, invece, specifica Sergio, ha un iter ben più semplice perché non passa la modifica costituzionale. Sono i comuni a prendere l'iniziativa. Per formare la nuova superprovincia occorre infatti l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa. Quindi doppia maggioranza sia dei comuni che della popolazione interessata da rappresentare attraverso delibere approvate a maggioranza nei consigli comunali. Dopodiché basta una legge ordinaria per ottenere, scrive ancora Luigi Sergio, un ente locale di circa 1.800.000 abitanti, di oltre 7.000 km2, che includerebbe ben 146 comuni e forse potrebbe essere un buon viatico per la futura Regione Salento, afferma il Presidente della Grecia Salentina, allorquando si affronterà anche la riforma del regionalismo in chiave federalista. È giunto ora il momento di agire, di fare ancora più sul serio rispetto a quanto fatto nel passato prossimo e remoto. Al momento, signori Presidenti, conclude l'esponente democratico Salentino, basta il coraggio vostro e di quello dei comuni interessati per dare ai nostri cittadini un ente più forte, maggiormente competitivo, più virtuoso, certamente più efficace e aderente al tanto invocato principio di sussidiarietà. E il dibattito si apre.